Situazione troppo preoccupante per continuare le attività in presenza. Il Consiglio Comunale decide di tornare alla videoconferenza per tutte le attività. Commissione sedute consigliari, lo hanno deciso i caprigruppo consigliari riunitisi in presenza del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino questa mattina. Troppo alto il numero dei contagi. Sono 1.085 positivi in tutto in città, tra ricoveri e numeri destinati a salire per le prossime settimane, secondo le stime dell'ASP. In tutta la provincia di Caltanissetta sono infatti 1.284 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, dei quali 576 a Gele e 327 a Caltanissetta. Saturi gli ospedali non ci sono più posti letto. Sette pazienti infatti sono stati ricoverati fuori provincia. Manca anche il personale sanitario che è sotto organico rispetto all'emergenza pandemica e un aumento vertiginosamente. Dunque i reparti, anche se vi è disponibilità di posti, non possono essere aperti per mancanza di sanitari.